Allora, eccoci con il portierone del Rosenborg, oggi un'altra vittoria per la vostra squadra, ormai avete proprio una bella quadra. Sì, abbiamo trovato una bella quadra, sì, siamo in un momento fortunato, diciamo risultati utili, positivi, consecutivi, e niente, ci impegniamo e ci divertiamo soprattutto. Cosa pensi che hai scattato dalla vostra testa? Perché io vedo una squadra compatta proprio. Diciamo che ci sono stati un paio di innesti, più che scattato dalla testa, che ci mancavano anni passati, e poi tanta voglia di fare insomma, ecco, tutto qua. Senti, in ultima domanda lo devo fare sul nuovo innesto, il numero 7, che assomiglia a Quara Screlia, come lo consideri, quanto è importante per voi? È fondamentale per la squadra, e oggi hai anche fatto una doppietta. Incredibile. Senti, ancora bravi e bocca al lupo per il continuo. Grazie.